Hanno rivoluzionato il mondo della mobilità e dei trasporti, le aziende di sharing dominano ormai tutto il panorama italiano e non solo. A rappresentarle da qualche anno c'è Associaring, la prima associazione di categoria del comparto sharing mobility, con l'obiettivo di rappresentare un settore che conta oltre 5 milioni di utenti iscritti in Italia, un settore in crescita e in grande rivoluzione presentato dal presidente Luigi Licchelli. Associaring è un'associazione che è nata nel 2020 per rappresentare alcune istanze del settore della sharing mobility, un settore sempre più importante all'interno del nostro paese per arrivare a risultati di decarbonizzazione e decongestione del traffico. Abbiamo fatto una riforma importante, abbiamo aperto 5 verticali specializzati per ogni sezione di servizi di sharing, quindi car sharing, micromobilità, bike sharing, scooter sharing e anche un settore che riguarda e abbraccia tutte le tecnologie legate alla sharing mobility. La missione di Associaring è di influenzare in modo efficace per il suo sviluppo in tutta Italia le politiche e il quadro regolatorio che disciplinano il comparto in tutte le sue varie articolazioni. Quali sono soprattutto gli obiettivi della nostra associazione? Uno di questi è sicuramente in ambito fiscale l'allinamento dell'IVA dal 22 al 10% perché ci consentirebbe di liberare maggiori risorse per investimenti e per garantire servizi nei confronti dei nostri cittadini. Crediamo che sia opportuno nell'ambito di una riforma più generale della fiscalità, quale sta affrontando ad oggi il governo, rappresentare anche le nostre istanze e dunque liberare risorse per maggiori investimenti e maggiori servizi. Procede inoltre il lavoro di Associaring in collaborazione con il governo alla luce delle nuove norme del codice della strada ad oggi in discussione al Senato. Noi vediamo come questa riforma del codice della strada che attualmente diciamo in Parlamento è osteggiata da categorie come i tassisti, come gli NCC, non piace come è stata elaborata nemmeno a noi e a numerosi privati cittadini. Dunque crediamo che sarebbe il caso di valutare delle modifiche migliorative al testo perché altrimenti potrebbero esserci degli effetti negativi per quello che è il servizio nei confronti dei nostri cittadini. Si attendono quindi sviluppi su quello che sarà il nuovo codice stradale, ma intanto Associaring prosegue nel suo lavoro di rivoluzionare il settore dello sharing a sostegno di tutte le aziende. Grazie 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 Grazie